Sappiamo che il fuoco è un elemento naturale e fa parte anche del mantenimento di certi ecosistemi dove è necessario il percorso del fuoco perché sia mantenuto. Per esempio, senza andare tanto lontano, la baraggia dove ci sono la brughiera del Biellese è periodicamente percorso dal fuoco ed è necessario, altrimenti si svilupperebbero altre specie di vegetali e così via. Un altro ambiente che resiste bene il fuoco è la macchia mediterranea, però per farla breve i boschi del Piemonte invece non sono assolutamente di quella tipologia lì. Capita l'incendio per cause naturali ma è un evento abbastanza raro. Quello che è successo l'anno scorso ha segnato uno spartiacque tra quelli che erano incendi di entità modesta come superficie percorsa dal fuoco e intervallati da molto tempo. C'è stata una superficie percorsa dal fuoco di circa 10.000 ettari e un interessamento sicuramente di molte zone del nord-ovest della regione. Questo muro che abbiamo chiamato muro delle vittime vuole rappresentare varie specie, non necessariamente soltanto i grandi mammiferi ma uccelli e tutti quegli animali molto vulnerabili al fuoco che sono animali o piante o funghi che non possono scappare perché o perché sono troppo lenti o perché hanno le radici quindi non hanno la possibilità di muoversi. Sappiamo che in seguito agli incendi viene persa la lettiera che poi è la parte fertile del suolo boschivo. L'ecosistema intero viene compromesso. È difficile spiegare alla gente perché non è sufficiente soltanto piantare altri alberi dopo l'incendio cioè non basta per arrivare a una sostituzione o per un ripristino di quello che c'era prima. Occorre lasciare fare la natura spesso e ci vogliono decine se non centinaia di anni per questo. So che c'è un tavolo tecnico della regione che raccoglie i maggiori esperti in questo campo quindi anche loro faranno le loro valutazioni e cercheranno di migliorare dove possibile e quindi dare impulso alla natura però in alcuni casi come per esempio alcune zone xeriche cioè asciutte della Val di Susa dove per esempio l'ordine di foresto che è stato percorso da fuoco sarebbe veramente impensabile e dannoso piantare alberi cioè bisogna lasciare che torni quello che c'era prima. Oggigiorno viviamo in un'epoca di globalizzazione nella quale anche specie, animali e vegetali arrivano da continenti diversi e questo è un grosso problema perché dove si lascia ferita scoperta, fuoco lì possono attecchire specie esotiche si dirà beh ma intanto è sempre verde, è sempre lo stesso vegetazione che cresce sì ma ricordiamoci che la biodiversità riguarda le zone diverse della terra quindi se arrivasse per esempio arrivassero specie esotiche quella si perde completamente, la biodiversità che c'era prima e non è possibile poi ripristinarla facilmente.